Passa maggioranza ma non all'unanimità il documento dell'ordine dei medici del VCO sulla riorganizzazione ospedaliera della provincia. Consiglio comunale di Gravellona approva ordine del giorno con cui boccia il nuovo ospedale dell'Ossola. Sul piede di guerra i lavoratori del comparto pulizie dei locali del municipio di Verbagna ha chiesto incontro al prefetto. Tanti visitatori nel fine settimana a Domodossola per l'annuale appuntamento con la festa d'autunno. Da venerdì a domenica a Baceno torna la sagra a mele e miele, nuova area ristorante coperta e riscaldata. Al Pedrolli il secondo tempo di Verbagna Caronnese finisce 0-0, secondo risultato utile e consecutivo per i bianco cerchiati. E ben trovati dalla redazione di VCO Notizie. L'avete dunque sentito dai titoli il tema della riorganizzazione ospedaliera in provincia spacca l'ordine dei medici. Ieri sera il Consiglio si è riunito per votare un documento che non ha incassato l'unanimità. Sentiamo cosa è successo. Anche l'ordine dei medici del VCO, seppure a maggioranza e non all'unanimità, si è espresso per un ospedale unico in una zona facilmente fruibile per i cittadini. Ieri sera la riunione con la votazione del documento che sarà inviato al Presidente della Regione Cirio, all'Assessore Icardi, ai Sindaci e ai Sindacati dei Medici e al Direttore Generale dell'ASL. Secondo indiscrezioni la votazione si sarebbe conclusa con 5 voti a favore, i verbanesi è escluso 1, i Cusiani e 4 contrari, i Medici o Solani e un verbanese, anche se il Presidente dell'Ordine Daniele Passerini non rivela nomi e non conferma. Nel documento non approviamo il progetto della Regione, spiega Passerini, ma riteniamo prioritaria la realizzazione di un ospedale unico facilmente fruibile. Siamo anche convinti che i due ospedali esistenti siano destinati ad avere grossi problemi. Nel documento si rileva che l'ospedale unico e nuovo nei pressi di Domodossola non potrà rispondere alle esigenze della provincia dal momento che un bacino di utenza di 60.000 abitanti circa non potrà mai sopravvivere nel giro di pochi anni, perderà di consistenza assistenziale. Inoltre il Castelli, che sarà declassato, non potrà far fronte a un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti, oltre ai turisti. I medici mettono anche in guardia. Al pronto soccorso di Verbagna rimarrà solo un medico di turno. Non pensino che siano i medici della Casa della Salute che dovrebbe essere trasferita al Castelli a sopperire alle emergenze. I medici di medicina generale non sono formati per la medicina di urgenza, ma per le cure primarie. Ancora sanità, perché l'argomento è stato al centro dei lavori consigliari. Ieri sera a Gravelluna Toce, votato un ordine del giorno proposto dalle minoranze. Il documento è passato a maggioranza. Si è astenuto solo il leghista Geraci. Gravelluna ha approvato quasi all'unanimità. Unica astensione è quella del consigliere Mario Geraci. L'ordine del giorno promosso dai consiglieri Salvatore Paolo Nocilla e Paola Battaglia per dire no all'ospedale baricentrico nella piana dell'Ossola e per avanzare la candidatura della stessa Gravelluna come sede ideale per la nuova struttura sanitaria d'eccellenza sul territorio. A favore dell'ordine del giorno ha votato anche il consigliere leghista Antonio Labriola. A volte bisogna scegliere con il cuore e la coscienza e io ho preso questa via le sue parole. L'ospedale unico e nuovo deve integrarsi con le altre strutture del territorio dove le prestazioni di primo livello devono essere erogate. Gravelluna rappresenta un'opzione valida a differenza di quella tra Domodosso e Le Villa. Abbiamo un territorio vasto e con poca densità ma non per questo possiamo penalizzare qualcuno a scapito di altri. A favore dell'ordine del giorno oltre ai firmatari tutti i consiglieri di maggioranza con significativa chiosa finale del primo cittadino Gianni Morandi. Voglio sottolineare il coraggio e l'onestà da parte di Nocilla, Battaglia e Labriola così Morandi nel prendere una posizione di buonsenso nell'interesse di tutto il VCO ed ovviamente anche per Gravelluna pur consapevoli che sia una posizione diversa rispetto a quella ipotizzata dalla Regione. Questo è il modo corretto di fare politica. La decisione presa dalla Regione Piemonte di realizzare l'ospedale nuovo sulla piana di Domodossola prevedendo un ospedale ridotto a Verbania è penalizzante per Cannobio e la Valle Cannobina così parlò il sindaco di Cannobio. Minazzi aggiunge Siamo già penalizzati da una strada ai limiti della percorribilità purtroppo ancora una volta la politica ha diviso il territorio. L'affermazione del sindaco di Domodossola che sostiene di difendere il suo territorio e di aver salvato il suo ospedale va in contraddizione rispetto all'obiettivo di operare per il bene della salute di tutti i cittadini del VCO. Ci batteremo pertanto anche noi al fianco degli altri sindaci del Verbano. In settimana chiederò assieme al Presidente un incontro con il Direttore Generale Sanitario e Dottor Penna per rivedere la convenzione tra l'Asla e la Fondazione Comunità Attiva di Cannobio che va in scadenza a maggio 2020. Ed è scontro tra il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Songa, e il consigliere regionale Preioni. Al centro del contendere, naturalmente, il progetto del nuovo ospedale Nossola. Anche la geografia diventa terreno di scontro sulla questione del nuovo ospedale. Dopo il post sui social del capogruppo della Lega, Alberto Preioni, con una cartina del VCO che avvalorava la tesi di Domodossola come sede baricentrica, è arrivata la piccata risposta del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Luigi Songa, che amplifica le diverse visioni del centro-destra sul futuro della sanità del VCO. Oggi mi sento goliardico e cerco di reagire con ironia. Alla luce del post pubblicato da Preioni, dove si tende a dimostrare, erroneamente, che il baricentro del territorio provinciale sia a Domodossola, avremmo qualche considerazione da fare. In primis, che se vuole usare una cartina geografica, e se ne riesce, la provincia del VCO finisce a Madonna del Sasso, parecchi chilometri a sud di Omenia, e che questo va a modificare l'asse della cartina. Senza contare poi che Preioni sia anche dimenticato di tutti i comuni cusiani, come Ameno, Armeno, Pettenasco, Miasino, solo per citarne alcuni, che fanno riferimento alla nostra ASL e che dunque vanno considerati. In secondo luogo, a Tacca Songa, vorrei sottolineare che la geografia comprende diverse analisi e ci pare strano che lui, Preioni NDR, non conosca la ripartizione territoriale legata alla densità abitativa, che certamente modifica ulteriormente la sua cartina. Infine, vanno considerate le dinamiche economiche e turistiche territoriali, che probabilmente il capogruppo della Lega non conosce, ma che modificano, e di parecchio, la popolazione numerica nell'arco dell'anno e nelle diverse stagionalità in nostro territorio. Comunque, se il capogruppo della Lega, conclude Songa, necessita di qualche ripetizione sulla geografia territoriale della nostra provincia, sono e siamo a disposizione gratuitamente a fare lui da tutor. Apriamo ora una pagina dedicata al mondo del lavoro. Si complica la situazione per le cinque unità impiegate nei lavori di pulizia degli uffici di Palazzo di Città a Verbagna. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro al prefetto. Non c'è pace per i cinque lavoratori impiegati nella pulizia dei lotti 234 del municipio di Verbagna. Situazione complessa per la quale ora le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione e chiesto un incontro con il prefetto del VCO. Non avevamo altra soluzione, le parole di Massimo Guaschino, anche alla luce del fatto che l'incontro che avevamo chiesto con il Comune non c'è stato. Ad oggi i lavoratori hanno ricevuto alcuni acconti relativi ai mesi di luglio-agosto, garantiti dal Comune di Verbagna, mentre ancora nulla è stato percepito per il mese di settembre. La nostra preoccupazione aumenta, aggiunge Guaschino, anche alla luce del fatto che nelle ultime ore il Comune di Verbagna ha risolto il contratto con la ditta che aveva in appalto le pulizie. Nell'incontro in prefettura ci auguriamo si possa trovare un accordo dal punto di vista economico e avere rassicurazioni sul futuro occupazionale di queste persone. E i problemi non finiscono qui, se la situazione non fosse sufficientemente complessa da rilevare che nelle ultime ore i lavoratori hanno scoperto che negli ultimi 12 mesi non sono stati effettuati i versamenti contributivi. Aveva rubato in casa di un settantenne e da ieri è in carcere. I carabinieri di Verbagna hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione del GIP nei confronti di EHR classe 1981 pluripregiudicato. Il furto era stato commesso lo scorso 12 ottobre e in pochi giorni i militari hanno chiuso le indagini. Bloccare il Consiglio regionale per tutelare il diritto allo studio è l'iniziativa lanciata in occasione della seduta di martedì 5 novembre per chiedere il ritiro o la modifica della delibera di giunta che prevede una riduzione di fondi per le borse di studio e di ISU. È stata creata una pagina Facebook alla quale si invitano tutti gli studenti martedì 5 novembre alle 8 davanti a Palazzo Lascaris per bloccare il Consiglio regionale. I giovani democratici del VCO denunciano il taglio delle borse di studio da parte della Regione. È un taglio importante? Sì, la Regione a guida centro-destra ha tagliato il 50% della copertura delle borse di studio. La Regione Piemonte si è impegnata per 5 anni per garantire la copertura per tutte le famiglie. Ci sono famiglie che arrivano a spendere circa 1000 euro al mese per i propri figli tra scuola e università. È un fatto veramente scandaloso l'istruzione ma come i giovani non devono essere un peso per il nostro Paese ma una risorsa. Voi vi attiverete in qualche modo per far sentire la vostra voce? Sicuramente come giovani democratici a livello regionale ci stiamo mobilitando per far sentire la nostra voce in Regione. Questo problema tocca anche i giovani del VCO? Tocca anche i giovani del VCO perché ci sono molti ragazzi che viaggiano tutti i giorni per raggiungere l'Università di Torino e dal punto di vista dei trasporti non è molto semplice quindi con queste borse di studio comunque c'era una copertura su quello che magari è un abbonamento mensile o altre spese e col taglio comunque di queste borse di studio andrà a toccare anche i giovani del VCO, sì. Nessun taglio e nessuna penalizzazione per gli universitari siamo di fronte a un'altra campagna di disinformazione delle minoranze afferma il capogruppo della Lega in Regione Alberto Preioni a proposito delle borse di studio ed isu posso assicurare, afferma Preioni, che nessuna risorsa sarà distolta dal diritto allo studio la riduzione del trasferimento di risorse spiega sarà compensata dall'avanzo di amministrazione di ed isu di oltre 15 milioni si tratta di un ragionamento puramente contabile Ed ora una questione sollevata da voi Ad Arona preoccupa il continuo sversamento di liquami nel lago attraverso il rio San Luigi È una storia ormai risaputa Il rio San Luigi, che si getta nelle acque del Lago Maggiore tra il Battello e Lombardia trasformato in locale pubblico e il cantiere della navigazione del Lago Maggiore continua a scaricare i liquami provenienti dai palazzi costruiti tra gli anni 60 e 70 ridosso di corso della Repubblica e le strade parallele Non occorre l'esame di un esperto, ma basta l'occhio umano e l'olfatto per capire a che tipo di scarichi ci troviamo di fronte Quando le acque del lago sono più alte, penetrano il tunnel del rio e il fenomeno si mimetizza parzialmente Quando era colorata la volta del rio in via Paleocapa, erano venuti alla luce scarichi fognari dei palazzi edifici che erano stati costruiti coprendo il letto del corso d'acqua Non uno solo, ma almeno tre palazzi distinti poggiano il loro fondamento da un lato e dall'altro del rio 50-60 anni fa, quando sono stati inalzati, è stato semplice far sì che la Fogna scaricasse direttamente nel corso d'acqua Le norme allora non erano così severe e i controlli quasi inesistenti Poi il tutto era nascosto dal palazzo soprastante Più volte anche il legambiente ha portato alla ribalta il problema e sia l'amministrazione comunale che l'Acqua Novare VCO avevano promesso di voler porre rimedio E' stato ipotizzato l'intervento di un robot che percorre in senso contrario il rio in modo da poter individuare chi scarica ancora liquami nelle acque del ruscello E' un neo che grava sulla città del San Carlone E pensare che nel giugno del 2016, proprio nello specchio di lago dinanzi a Rona spiaggia delle rocchette per la precisione, si erano rilevate acque presentavano proprio la potabilità Per difendere l'onore della bandiera blu, conquistata nell'estate 2018 i cittadini che hanno inviato la segnalazione chiedono che si corra ai ripari Questa mattina nell'aula magna dell'Istituto Marconi Galletti e Inaudi a Domodossola la professoressa Valeria Valle e il presidente della fondazione comunitaria Maurizio De Paoli hanno consegnato una borsa di studio promossa dal fondo Gianfranco Zamengo nell'annunciare il nome dello studente premiato, Gabriele Olzer, dell'indirizzo chimico il presidente della fondazione ha ricordato le doti professionali e umane dello scomparso professor Zamengo per anni apprezzato docente all'Istituto Marconi E rimaniamo nel capoluogo ossolano ma per darvi il resoconto della manifestazione che ha animato il borgo della cultura nel passato fine settimana I colori di stagione hanno tinto la città d'oro una cornice perfetta per la festa d'autunno che si è tenuta domenica scorsa a Domodossola organizzata dall'associazione Oscella Felix era la ventiduesima edizione della manifestazione in piazza mercato paioli di rano e fumanti di polenta per il pranzo il profumo si è diffuso nei dintorni un richiamo irresistibile per i golosi che l'hanno accompagnata a spezzatino, salamini, gorgonzola ma nel corso della giornata non sono mancate altre specialità nostrane dallo stinket della Valle Vigezzo la sottilissima sfoglia da accompagnare a burro d'alpe e un pizzico di sale al risotto con la toma di formazza passando per la castagnata all'ora di merenda una tradizione immancabile in questo periodo il caffè era preparato come si faceva una volta c'era anche il fumante Vim Brulee l'intrattenimento oltre che alla cucina è stato affidato alla bandella Vigezzina che ha contribuito a rallegrare l'atmosfera con le sue note e alle bancarelle, salumi, formaggi, confetture e altro da assaggiare e portare a casa oppure oggetti da artigianato da regalare o regalarsi magari da tenere nel cassetto in vista del Natale molto apprezzate le passeggiate a cavallo all'interno del centro storico una bella emozione soprattutto per i piccoli avvicinare questi imponenti e mansueti animali e montare in sella magari per la prima volta complice la calda giornata di sole è stata l'occasione per trascorrere qualche ora all'aria aperta e godere degli angoli più suggestivi del centro domese con la famiglia o con gli amici Nel fine settimana da venerdì a domenica torna Mele e Miele a Baceno novità all'area ristorante coperta e riscaldata dal primo al 3 di novembre torna Mele e Miele a Baceno un'edizione importante la trentesima sì un'edizione straordinaria la trentesima che sarà veramente ricca di appuntamenti e come al solito sarà un contenitore in cui all'interno ci saranno veramente incontri e conferenze ovviamente la parte di mostra che è un po' quello da cui è nato tutto e poi ovviamente anche tanta musica tanto buon cibo che è diventato uno degli aspetti più importanti della sagra tra gli appuntamenti più importanti sicuramente sono da sottolineare quelli serali anche perché quest'anno si potrà anche accinare tranquillamente alla sagra venerdì ci sarà un bellissimo monologo di Marco Albino Ferrari mentre sabato 2 novembre ci sarà questo appuntamento ormai classico dialoghi serali con Cristina Piolini che ormai è diventato un mito in questo territorio Riccardo Montani che è nazionale di Sky Running e Oliviero Alotto che è un atleta e anche fiduciario della condotta Slow Food di Torino ci sarà anche una novità sulla ristorazione sì da quest'anno avremo un capannone completamente chiuso e riscaldato quindi in qualsiasi condizione di tempo dopo aver visitato la sagra ci si può fermare mangiare qualcosa e ovviamente gustare anche le tante delizie tra cui il risotto mele e miele il programma completo sul sito www.melemiele.it ma questo appuntamento ormai è importante non solo per Baceno ma per tutta la valle certo assolutamente sì la sagra è nata 30 anni fa in un'epoca in cui non si parlava ancora di cibi a chilometro zero cibi biologici tutte tematiche che oggi sono assolutamente sulla bocca di tutti la sagra in questo è stato un evento precursore di quello che stiamo oggi vivendo i sensi prendono quota il tema di quest'anno per parlare di montagna a 360 gradi il partner storico della sagra è l'istituto fobelli di crodo sì l'istituto fobelli di crodo che quest'anno compie 40 anni quindi questo trentennale della sagra coincide col quarantennale della scuola quest'anno sarà un anno speciale perché oltre a partecipare con l'allestimento dei nostri prodotti didattici quindi il vino, il formaggio, la birra accompagnati dalle scuole gemellate della Repubblica Ceca e della Francia e promuoveremo la costituzione di una comunità slow food fobelli siamo la seconda scuola in Italia che promuove una comunità slow food l'altra scuola è il liceo Gioberti di Torino e quindi per noi sarà anche l'occasione per lanciare questa importante iniziativa che presenteremo domenica mattina all'interno della sagra Lumini al limitare del ghiacciaio per ricordare gli alpinisti morti sul Monte Rosa venerdì 1 novembre la sezione CAI di Macugnaga promuove la salita al limitare del ghiacciaio del Belvedere sotto la parete est del Massiccio per deporre luci ricordo delle vittime sul Monte Rosa molti di loro sono sepolti nel piccolo cimitero di Macugnaga di altri invece i corpi sono ancora custoditi dalla montagna il CAI prevede la partenza dal piazzale della seggiovia di Pecetto per salire in due ore e mezza sino ai 2000 metri del Belvedere ed ora uno sguardo alla nostra programmazione come ogni mercoledì prima serata dedicata alla nostra storia alle 20.35 l'appuntamento è con Marcello Perugini che ora ci dà anche le anticipazioni Sì puntata ricca quella di stasera ve lo anticipo subito carissimi amici che avremo degli argomenti diversi tra loro ma comunque interessanti parleremo di Juventus, Castagna d'Oro del Mottarone, l'Hotel Bristo di Baveno quindicesima edizione, Filippo Inzaghi premiato con la Castagna d'Oro Ancelotti, Conte, protagonisti a loro e protagonisti anche del calcio di oggi e poi andremo con delle immagini vecchissime dell'86 a Verbania per la visita sempre dei giocatori della Juve Platini, Laudub e tanti altri ricevuti dal sindaco Francesco Imperiali Nella terza parte, il terzo servizio, cambieremo decisamente argomento perché non parleremo di sport ma di beneficenza, di solidarietà con insieme per un dono che abbiamo già avuto modo di seguire in tante occasioni ma tra il 98 e il 99 raccorse addirittura un miliardo per l'acquisto di un attacco spirale da donare all'ospedale San Biagio Questi i contenuti della puntata, ricordo sempre gli orari il mercoledì sera alle 20.40, il lunedì alle 18.40 e poi tante altre repliche A voi la linea Grazie Marcello, domani alle 18 con repliche nella giornata di venerdì alle 13 alle 21.30 L'appuntamento è con l'Infinito dentro un bisogno Vi aspettiamo all'Infinito dentro un bisogno con l'editoriale del nostro Presidente che ci proporrà una riflessione sul rapporto tra politica e società civile Andremo poi a conoscere l'Associazione Amici dell'Oncologia e a scoprire quali servizi importanti offre ai malati oncologici e ai loro familiari sul territorio della provincia di Verbagna e andremo poi a conoscere quali attività sono state portate avanti nel 2019 da Lega Ambiente Circo del Brutto Natroccolo nell'ambito del suo progetto Cernobil Vi aspettiamo! Ed ora siamo alla pagina sportiva in apertura il calcio Oggi si è giocato il secondo tempo di Verbagna-Caronnese Match finito a Reti Inviolate Termina 0-0 la prosecuzione del match tra Verbagna e Caronnese gara che era stata sospesa per la pioggia dieci giorni fa Andiamo a vedere le azioni che hanno caratterizzato questa seconda parte di gioco che ha visto il risultato non sbloccarsi ma venire sullo 0-0 Ci provano subito al secondo gli ospiti con un tiro di corno dalla distanza che viene ben assorbito da Russo Occasione per il Verbagna al ventunesimo dopo una bella trama Ramponi per Gambino, palle in mezzo ma Panzani non arriva all'impatto vincente Gli ospiti si fanno vivi al ventisettesimo ma il tiro di Itanasa è abbondantemente alto sul capovolgimento di fronte un minuto dopo e Gambino a chiamare Porra la respinta in calcio d'angolo L'ultima occasione di marca ospite con corno che ha la palla del vantaggio Russo con i piedi gli dice no, non succede più nulla Termina 0-0 il proseguimento della gara tra Verbagna e Caronnese Quattro punti in tre giorni per il Verbagna Sergio come sono stati questi 45 minuti con la Corandese? Come li commenti? Comunque avete creato due buone occasioni? Sì ma noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare Li abbiamo aspettati, siamo ripartiti e abbiamo avuto un paio di occasioni da gol come l'hanno avuta loro Però dico che ce lo siamo giocato alla pari Loro è una squadra che ha ambizioni diverse rispetto alle nostre Però noi anche oggi abbiamo dimostrato di non essere inferiori Tant'è vero che se concretizzavamo quello che abbiamo creato Potevamo portare a casa il risultato pieno Quanto cambia per il lavoro in settimana, per l'entusiasmo Questi quattro punti che avete fatto in quattro giorni? A livello di risultato è importante perché la squadra acquista fiducia Adesso da domani prepariamo quella che sarà fondamentale Per dare continuità ai risultati contro la Lavagnese Che se riusciamo a fare risultato anche domenica Dico che ci mettiamo in una posizione di classifica più consona alle nostre prestazioni Perché fino adesso come detto anche quando perdavamo Non rispecchia quello che abbiamo espresso in campo Adesso sono due partite che raccogliamo E sono convinto che raccoglieremo anche domenica Il pubblico che vi può dare una mano Ecco domenica quanto sarebbe importante con la Lavagnese Avere una bella cornice di pubblico per te, per la squadra e per tutto quanto Sì ma dobbiamo essere noi bravi a trascinarlo Anche oggi si sentiva Verbagna, Verbagna Vuol dire che la squadra sta crescendo Sta dando il massimo E anche domenica sono convinto che il pubblico ci darà sicuramente una mano Nel prossimo servizio invece il punto relativamente al mondo del CSI Nel girone A del calcio a sette primo significativo a lungo in vetta della Roba Lucia Che guida con 15 punti grazie a successo 6-4 contro la Cappuccina Piazza d'onore per il Arsenal fermato sull'1-1 dall'Ercolaneo Miselle Sorridono invece Pallanzeno e Divin Porcello a segno su Team Sport e Dinamo Valpiana Nel girone B comanda il Masera, primo a punteggio pieno Ultima vittima il Rodcaffè battuto 6-3 Secondo posto per il gravellona Piazzolla che ha avuto ragione per 3-1 sul Rumianca Nel girone C continua la sua marcia inarrestabile il Caffè Stangrini Che non conosce ostacoli 10-3 contro gli haters e 3 punti di margine sul Luzogno Che ha battuto lo Strosenborg E sul San Martino vittorioso 8-1 con il Massino Visconti Atletico Paruzzarello in testa al girone D 6-5 al Garboli in una partita molto combattuta A meno 3 la Rocca Gold che ha piegato 3-2 al centrale Bistrò Ed il La Quarna che ha liquidato 9-4 il Porchis Trobaso 1-3 davanti a tutti nel girone E Bar Milano vittorioso sul circolo Miralago Giffa 2-1 Raggiunto in vetta anche dal Pesce d'Oro che ha battuto 5-2 la Floricoltura Saletti Nel calcio a 5 aggancio al primo posto Il Luzogno infatti ha pareggiato 3-3 con la pasticceria da Franca E ne ha approfittato subito il Divin Porcello Che ha sbrigato la pratica Scarsenal con un perentorio 12-4 Bene siamo in chiusura Vcioazzuratv.it per gli aggiornamenti Grazie per averci seguito Arrivederci alle prossime edizioni